Quando deve arrivare qualcosa di nuovo nella tua vita sai che succede, una cosa di questo tipo che cerca di arrivare ma non trova spazio in questo perché la tua vita è già piena allora cerca di togliere qualcosa, questo chiede perché ce l'hai ancora, questo come mai è qui questo provoca dolore, di questo non ne hai più bisogno, questo era un compromesso però tu fai ancora resistenza perché credi che ti stia togliendo qualcosa quando in quei momenti invece riesci a mollare la presa ti accorgi che in realtà era tutt'altro perché stai permettendo alla vita di fare spazio per far entrare qualcosa di nuovo